che mentre Matteo Salvini, ministro dell'interno, convoca le parti sociali, Matteo Salvini deve gestire anche un'altra grana, che riguarda la città di Roma. Lo vedete dalle immagini che in questo momento stiamo diffondendo. A Prima Valle, Torre Vecchia, nel corso di uno sgombero di un immobile occupato in cui vivono 150-300 persone, di cui 80 minori, ci sono state delle scene di vera e propria guerriglia urbana, con masserizie date alle fiamme e lancio di oggetti contro le forze dell'ordine. Giornata molto calda, che tra l'altro queste immagini sono state rilanciate in diretta dallo stesso pagina social di Matteo Salvini.